da roma zona via attento a far scoppiare la guerra la verdi l'amicizia tra numero 8 spadino e lele diciamo è un'opportunità che colgono tutti e tre per per uscire dalle loro famiglie sono tutte e tre situazioni dalle quali loro vogliono evadere per avere una emancipazione il numero 8 è un personaggio fondamentalmente alla ricerca della della sua posizione su questo mondo aurelia non è pronto per sapere certe cose a me però me dici non sai come tu fratello diciamo ecco la sua impulsività è un po il suo più grande pregio e il suo più grande difetto allo stesso momento io voglio ammazza tutti spadino è il principe di questo clan sinti romano vero gli anacleti e lui invece è uno che alle regole non ci sta pischello ora il pischello si è rimasto moda chiedere per me su una panna arcesa ma sai che sto io sì secondo me c'è 24 ore di tempo per portar melizzo lele è un personaggio che figlio di un poliziotto vuole andare oltre vuole molto più determinato e ambizioso questa ambizione chiaramente lo porta poi a ritrovarsi in situazioni più grandi di lui è così che va per criminale diciamo la loro unione è quella che metterà i bastoni tra le ruote i grandi poteri ovvero la chiesa la politica e la criminalità per voi è tutto un gioco è meglio di il tisse è quando si è lavorato proprio